Buongiorno, intanto grazie per l'ospitalità di oggi che questo istituto mi sta dando questa opportunità di incontrare i giovani e da un po' di tempo che noi come ordine della professione sanitaria di Palermo, quindi dell'ordine infermierissima, stiamo cercando di incontrare i giovani per dare proprio un segnale di lucinanza sia per la nostra professione sia per far conoscere proprio cos'è l'infermiere all'interno delle istituzioni, portando proprio la professione infermieristica, a conoscere loro chi è l'infermiere oggi perché probabilmente ancora c'è un retaggio antico della figura infermieristica che non è ben riconosciuta rispetto alla sua professione. Oggi l'infermiere è un professionista che a 360 gradi si prende cura e si occupa di tutti i bisogni delle persone, non guardiamo solamente l'aspetto della malattia, ma guardiamo anche l'aspetto centrale. Questo incontro che già diversi mesi riusciamo a fare nei vari istituti, abbiamo iniziato tutto con un percorso quasi a modi gioco con il tenivo doccio di Palermo, poi abbiamo fatto qualcosa di molto più organizzato e importante con l'Italessandro di Pageria, poi ci troviamo qua a Palermo della Vergine Margherita. Tanti altri istituti ci stanno chiamando per essere presenti e il segnale che vogliamo dare è proprio quello di essere vicini all'istituzione per poter portare un segnale forte di quello che cos'è della professione terrorista.